Fratelli e sorelle bianconeri salve a tutti e allora riflettiamo insieme a mente fredda su quello che è accaduto ieri che a molti ha ricordato la rimonta subita dalla Fiorentina da 0-2 a 4-2 nella stagione 2013-2014 indolore che poi portò a una serie di risultati pazzeschi tanto da fare 102 punti a me personalmente ha ricordato ha ricordato tantissimo per come per come è avvenuta il famoso derby famoso derby del 27 marzo 1983 quando il Torino in 220 secondi pensate in meno di 4 minuti ribaltò da 0-2 a 3-2 con quel famoso gol di Torrisi in sforbiciata con una Juve proiettata con la testa alla Coppa dei Campioni che poi perse in finale ad Atene con l'Amburgo con quel famoso gol di Magat e quel giorno praticamente la Juve abdicò virtualmente lo scudetto in favore della Roma questa volta penso sia sia più sia in dolore per la classifica perché ripeto con tutto che c'è l'Atalanta e poi dopo il Sassuolo c'è anche la Lazio la Juve vincerà il campionato penso al 90-95% vincerà questo campionato perché non c'è una vera alternativa anche se ripeto è la Juve e con la rosa più scarsa negli ultimi nove anni e lo ribadisco vincerà lo stesso il campionato perché non ci sono alternative la discontinuità di Lazio e Inter è sotto gli occhi di tutti e ci farà vincere questo scudetto che però non deve cancellare le magagne che abbiamo in rosa e che bisogna correggere assolutamente per non arrivare al prossimo anno scoperti perché quest'anno passerà con una vittoria in campionato non penso proprio in Coppa salvo miracoli anche in quella Final 8 sempre se ci arriviamo ma signor Agnelli e signor Paradici dovete correggere tante 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 cose perché veramente è indegno che la Juve abbia certi giocatori in rose e Sarri non mi può Sarri non mi può giustificare il blackout non mi può giustificare tecnicamente questa cosa col blackout il rigore ha cambiato tutto va bene c'è la caccia alle streghe il quattrocentesimo il rigore contro la Juve quest'anno e molti abbastanza farlocchi ma ciò non giustifica il blackout tu devi parlare tecnicamente di quello che è successo ieri delle carenze difensive oltre che del centrocampo che non fa filtro ma delle carenze difensive proprio di base che tu evidentemente non alleni non alleni certe situazioni durante la settimana che sei sempre votato a quella attacco possesso palla si curano queste situazioni difensive si curano si curano guardate bene l'azione del gol di Chessy dove Pjanic molla Chessy praticamente si ferma e Chessy va indisturbato in penetrazione centrale e Pjanic si ferma ce l'aveva lui Rugani viene saltato e Bonucci si gira cosa che non fanno neanche in terza categoria si gira dai il tacco e si gira poi la deviazione sfortunata che la palla si impegna eccetera eccetera il 3 a 2 anche peggio Rugani basilare per chi lo fa durante la settimana il movimento basilare devi semplicemente accompagnare le hao sull'esterno dove non può fare un'emerita mazza lo accompagni col fisico con la spalla io ve lo dico da difensore si accompagna si accompagna verso l'esterno non può fare niente lì non lo devi fare entrare di forza perché poi succede infatti la deviazione la spizzata un po' colpevole Scesni è stata spizzata la palla infatti Scesni si stava buttando sull'altro palo insomma situazione un po' così ma carenze difensive poi Alessandro ha messo la cileggina su una cosa che non ho visto neanche nei campi della Beretti un passaggio laterale da un terzino nella propria tre quarti lasciamo stare perciò capite secondo me certe situazioni non vengono allenate durante la settimana non mi può spiegare il signor scaccolatore solamente con il breakout il breakout abilo onestà intellettuale di dire quello che è successo e che non curi la fase difensiva mi piacciono le tue idee offensive Sarri ma non mi è mai piaciuta come non mi è mai piaciuto come curi la fase difensiva perché il calcio è globale questa è la differenza tra te e Enrico Sacchi che curava tantissimo la fase difensiva maledetto maledetto però fino a un certo punto perché ripeto la colpa è sempre solo della società correggi questi buchi abbiamo in rosa perché quest'anno passerà con un altro campionato te lo dico io in coppa ci butteranno fuori nella final eight passerà con un altro campionato ma il prossimo anno ci massacreranno perché si rinforzeranno tutti se non se non se non sistemi questi maledetti buchi in rosa avete capito paratici capito agnelli fino alla fine siete avvisati un altro